Io mi chiamo Enoch, Mattia, Carlotta e io mi chiamo Tamiallo. Abbiamo visto la piacetta Settefate vicino a Santa Chiara. Abbiamo saputo pure che le fate venivano in una lotta per portare gli uomini. Li portavano nei posti meravigliosi e l'entrodomani li riportavano. La fata di Santa Chiara. Siamo andati dal calciolaio Antimo. E si è fatto fare una alla porta la fila. Una a uno, girate piano piano. E poi con la scarpa si è fatto fare così, con il martello. Abbiamo piantato le scarpe. Abbiamo fatto il calciolaio. Abbiamo fatto il calciolaio. Brava! E poi siamo andati a Ballarò e ci hanno dato la mandorla. Queste che cosa sono? Le mandorle? Le mandorle? Le mandorle? Prego! Siamo andati nella fabbrica delle caramelle. E ci hanno dato un pacchetto di caramelli. Ognuno. Hanno trasformato lo zucchero in dei quadrati. Le caramelle e la carruva fanno bene alla gola. Poi siamo andati lì a vedere la mossa di quel disegno che aveva le scarpe e la maglietta del giocatore. Una con le scarpe da carcio. Le scarpe di disegno erano tutte grandi. C'era un uccello che sollevava la pietra con un filo. Questo piccolo uccellino era muscoloso. Guarda che bel mare che abbiamo qua sotto! E poi siamo andati nella torre che abbiamo visto tutta Palermo. La torre di San Nicolò. Si vedeva qui, Palermo, qui la mia scuola, si vedeva tutto. Tutta il mondo. La scuola prima era così. Poi era girare. Era un po' spaventosa. Quella torre serviva per difendere la città. Abbiamo saluto alle campioni. Ciao! Ciao! Ciao!